Conosco bene le situazioni, ho troppa, sembro perché ho un ragazzino ma non lo sono, purtroppo non lo sembro neanche più, ho troppa esperienza di questo ambiente, dell'ambiente del calcio per farmi portare fuori strada, noi dobbiamo essere consapevoli che viviamo di verifiche settimanali, che viviamo di risultati, che viviamo di prestazioni e che assolutamente i giudizi secondo me vanno fatti a fine stagione e quindi anche il mio lavoro, il lavoro di giocatore, il lavoro della società sarà giustamente analizzato e finalizzato ai risultati conseguiti, quindi altri pensieri nella mia testa assolutamente non ci sono, poi non posso stare qua tutte le volte a dire che sono contento di allenare il Bologna, che sto bene nel Bologna, ma è la verità e lo sapete benissimo e quindi io vi ripeto sono concentrato e determinato come è tutta la squadra perché ripeto noi abbiamo l'obiettivo che è il 13 maggio, abbiamo l'obiettivo di fare il massimo che possiamo fare. Noi dobbiamo giocare la partita di domani per provare a portare a casa tre punti, dobbiamo giocare la partita domenica prossima in casa col Palermo per provare a portare a casa tre punti, dobbiamo provare a vincere il derby con il Cesena, dobbiamo provare a vincere in casa col Cagliari giovedì, sono 30 punti a disposizione, noi sappiamo che non vogliamo lasciare sul campo nessun rammarico, nessun rimpianto, vogliamo affrontare ogni partita al massimo e adesso siamo solamente concentrati, non posso fare tabella, non l'abbiamo fatta quando avevamo 5-6 punti in classifica, 10-12, noi sappiamo che abbiamo fatto un percorso lungo, faticoso, che ci ha dato comunque delle prestazioni, dei risultati consecutivi importanti e che adesso abbiamo avuto una piccola flessione con l'Udinese, ci siamo subito ripresi, siamo in carreggiata e vogliamo assolutamente continuare, la partita domani è una partita difficilissima, l'Atalanta insieme al Catania è la squadra assolutamente rivelazione del campionato, è una squadra che in casa ha perso solamente con Milano e Juventus, è una squadra che anche se ha delle assenze sa trovare nelle proprie motivazioni, nelle proprie corde i tasti giusti per mettere in campo sempre prestazioni molto determinate, molto agguerrite, ci sarà un ambiente carico, conosco bene quell'ambiente perché ci ho giocato tantissime volte da giocatore e anche da allenatore avversario e domani è una partita molto difficile contro un avversario piuttosto, però ritengo che sia una partita da Bologna perché i nostri avversari hanno più o meno le stesse nostre caratteristiche e quindi noi dobbiamo giocare da Bologna e dobbiamo provare a portare a casa ancora una volta risultato, prestazione e risultato. E che sia una situazione un po' particolare sì perché comunque giocare alle 11 e mezza, giocare alle 12 e mezza è proprio la la notte che cambia l'orario è particolare, però siamo dal stesso punto di vista dell'Atalanta, siamo sullo stesso livello, siamo sulla stessa situazione, quindi forza Bologna!